È una gioia quando viene trovato un amico o un'amica a fare un caffè. E quindi le caffessiere le ho tutte qua in ordine di grandezza. Dosa caffè con il caffè, anche se ci sono le macchinette con le cialde, ma non mi sono ancora attrezzata, non mi interessa, mi piace la moca. E quindi a seconda dell'ospite, quattro tazze, tre tazze, due tazze. Con il dosa caffè, col coperchietto, riesci a dosare il caffè. Il gas ovviamente lo accendi, ma ormai ho memorizzato tutto. Ed è bello poi prendere le tattine, sceglierle, quelle che piacciono magari all'ospite che hai invitato. Dici che colore ti piace? Poi metti il cucchiaino, lo zucchero e quando viene sul caffè dici per favore te lo rovesci tu? Invece se me lo devo fare per me, a me piace molto prendere il caffè nella classica mug inglese. Io qua sono tranquilla perché me lo posso rovesciare.